Su Berlusconi voglio dire solo una cosa, ne dirò solo una, perché è una cosa passata, vecchia, ma stancata. Perché poi Silvio Berlusconi? Che si dica? Lui a 18 anni ci ha resistito come premier, insomma, no? Quindi vuol dire, amici miei, che Silvio ci ha avuto il tuo successo, è vero signora? Anche un bell'uomo, eh? Vero signora? Comunque è di stia, affascinante, eh? Con quei orecchie. Pare a tumbo. Berlusconi è un uomo affascinante, però comunque sia nessuno l'ha mai mandato via Silvio. Ma quando si parlava di, quando è che l'hanno liquidato Silvio Berlusconi? Quando si parlava di falso in bilancio, ipotetico, di corruzione, di finanziamento pubblico ai partiti? No, l'italiano l'ha fatto fuori quando succede queste cose, desti bunga bunga. Eh? Perché l'italiano, quando ha saputo che Silvio Berlusconi, un premier anziano di 75 anni, faceva le feste con tutte queste belle ragazze nello scantinato di casa sua, là, l'italiano ha rosicato. Perché siete invidiosi. Siete un popolo di invidiosi. Perché immaginiamo, il coetaneo di Silvio, un 75enne d'Orvieto, E' il sabato sera, far bunga bunga. Sta a casa sul divano con la moglie a vedere la settima replica annuale dei ghost, sbragato sul divano con tutte le molliche intorno, la moglie che dà da mangiare i cattichi, i carsettoni, i rolli in testa. Gli potrebbe un po' ruotere il culo a questo che si immagina Silvio, che sta lì che balla il bunga bunga con tutte queste ragazze. No?